118 Arezzo Da 522 Si salve, da dove mi chiama? Villalba, San Marco Villalba, benissimo, ascolti che cosa è successo? C'è un uomo a terra in un campo? Un anziano, un ottantenne questa mattina torna alle 10.30 è stato trovato privo di sensi in un campo tra Santa Firmina e Villalba a salvargli la vita una passante che una volta visto l'anziano a terra ha allertato i soccorsi Alfa 1 mi senti? Sì, ascolta, dove sei te adesso? La rotatoria di Santa Firmina Benissimo, prosegui a dritto, a un certo punto prosegui per la strada principale trovi le scuole sulla destra Ciao 115 al 118, senti io avrei bisogno di un vostro supporto per un intervento nella zona tra San Marco Villalba e Santa Firmina Una zona impervia, avete richiesto anche il sostegno dei Vigili del Fuoco di Arezzo Sì, sì, è una prassi ormai consolidata, con i Vigili del Fuoco collaboriamo molto spesso per il recupero di persone, per il soccorso a persone in zone impervie qui ci trovavamo alla periferia di Arezzo perché la zona è quella tra Santa Firmina e Villalba i Vigili del Fuoco hanno dato un apporto indispensabile in quanto hanno alzato in volo anche l'elicottero Drago per riuscire a capire meglio l'ubicazione dell'evento i nostri mezzi stanno andando, il passante che ha chiamato mi dice che non riescono ad entrare perché il campo è chiuso da una recinzione I Vigili del Fuoco con Drago hanno solamente identificato il posto e si sono pure calati? Si sono atterrati sul posto e hanno dato una mano al primo equipaggio nostro che era l'ambulanza che è intervenuta in appoggio all'automedica che hanno dato una mano nello svolgere le manovre rianimatorie e non solo, poi in una seconda fase hanno dato anche un supporto per l'evacuazione del ferito dal campo stesso fino all'ambulanza Arrivati sul posto abbiamo trovato la persona incosciente senza priva di battito e priva di respiro quindi abbiamo iniziato subito le manovre sia noi che l'equipaggio che era arrivato sul posto e anche l'equipaggio di Drago poi che avevano iniziato uno massaggiava i soccorritori che avevano messo le piastre e iniziavano già tutte le manovre rianimatorie Insomma è stata una bella collaborazione Al mio tre e tutti insieme abbiamo provveduto a sostenere il paziente e siamo arrivati qua che il cuore batteva